Privilege Yard ha ripreso il dibattito al Comune, oggi una nuova riunione, come si è conclusa? Sì, una riunione propedeutica rispetto all'incontro che avremo al Ministero delle Attività Produttive il 29. Privilege ha nuovamente manifestato l'ottimismo di poter continuare nell'attività di costruzione di questa prima imbarcazione e poi anche di altre al termine dell'ITER legato al concordato preventivo in ragione di ormai famigerati finanziamenti delle banche. Per quanto ci riguarda, insieme anche con l'amministrazione comunale e l'auditorietà portuale, abbiamo pure condiviso sul fatto che al Ministero dobbiamo porre il tema di un eventuale piano B, un piano in ragione di un eventuale fallimento o comunque non prosecuzione dell'attività della Privilege. Quindi pensare a come riacquisire quell'aria, pensare a che farne di quell'imbarcazione costruita a metà, soprattutto pensare al futuro dei lavoratori e del lavoro attraverso una serie di proposte che possono riguardare anche il sostegno alla costruzione il prima possibile del bacino di carenaggio, che possano immaginare di indicare il porto di Civitavecchia per la demolizione delle navi, ad iniziare da una parte di quelle legate alla Marina Militare. Certo, un percorso che avrà bisogno di qualche tempo, nel mentre bisogna dare delle risposte concrete ai lavoratori, ad iniziare da quelli che dal primo settembre rischiano di rimanere anche senza ammortizzatori sociali. E da questo punto di vista abbiamo positivamente preso atto dell'impegno da parte dell'autorità portuale, ovviamente non a poter assumere, ma a poter sensibilizzare le varie ditte e anche ragione di ulteriori lavori che possono interessare l'area del porto, a tener conto di questi lavoratori, come di altre realtà, magari anche con lavori a tempo determinato. Questo è un po' il quadro emerso dalla riunione di oggi. Vedremo che cosa capita nella riunione al Ministero, che sarà accompagnato ovviamente da un presidio dei lavoratori, e poi faremo il punto.